Potete correre, andare in bicicletta, nuotare, fare esercizi in palestra, qualsiasi cosa, ma ricordatevi che l'alimentazione e l'attività fisica sono le basi su cui costruire il vostro benessere. Gli esperti del settore vi sostengono attraverso piani nutrizionali e di allenamento studiati per voi, personalizzati, quindi usiamo la testa e sport e alimentazione a tutte le età si può fare.